Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti di essere qui. Ci è stata data la possibilità di parlare in italiano, però c'è una traduzione in spagnolo per chi ha le cuffie. Ringraziamo per l'invito, ringraziamo l'amministrazione di Vittoria, il centro di studi ambientali, portiamo anche i saluti del Parco dei Colli, del Presidente e di tutto il dirittivo e anche del sindaco di Bergamo che è interessato a questi processi. Tra l'altro la nostra città, Bergamo e Vittoria, sono città molto simili, città intermedie, città storiche, città che si stanno ponendo l'obiettivo di creare una qualità della vita migliore. In effetti l'anno scorso, quando con l'amico Morris Lorenzi siamo venuti a Vittoria, siamo rimasti stupiti dalla ricchezza, dalla struttura e l'infrastruttura ambientale e quindi abbiamo imparato molto. Spero che oggi, raccontandovi l'esperienza del Parco dei Colli, anche per voi ci sia la possibilità di arricchire la vostra esperienza. Nel mio titolo io ho aggiunto un sottotitolo, non solo dal Parco dei Colli alla nuova corona verde agricola, ma tra connettività ecologica e coesione sociale. Come c'è stato ben detto ieri dal professor Farigna, la città contemporanea spessa è sconnessa dalla naturalità e da questa sconnessione nascono tutti quei problemi delle megacittà che ieri abbiamo visto. Ma non è sempre stato così, soprattutto in Europa, soprattutto per le città storiche e soprattutto per le città quali quelle italiane. Questa è la piazza vecchia, la piazza della nostra città, una delle città storiche e una delle piazze forse più belle d'Italia. Come voi ben sapete, la città storica italiana non ha solo generato palazzi, monumenti, ma anche specifici sistemi rurali che tante volte sono stati richiamati sia nell'introduzione che ieri. Però quello che voglio sottolineare è che le città avevano una forte specificità da un punto di vista dei sistemi agricoli e rurali di grande valore identitario, di grande naturalità, ma che era diverso da quello del contado. Tante volte nelle immagini del buon governo vediamo il contado, ma la città e il suo suburbio avevano paesaggi rurali fortemente specifici. E in questa ricostruzione, in questo guardare indietro per creare una realtà prossima, avventura migliore, si possono avere nuovi percorsi progettuali, nuove visioni, che possono integrare appunto la città e la naturalità. E attraverso questo percorso anche recuperare un altro aspetto importante delle nostre città, quella degli elementi identitari. Quindi generare nuove forme di radicamento che in qualche modo aiutano a migliorare la funzionalità urbana, sia in senso ecologico-ambientale, ma anche e soprattutto da un punto di vista sociale. E in questo processo, che nella nostra città ha radici antiche, ha permesso a Bergamo di raccogliere numerosi riconoscimenti internazionali. L'anno scorso le mura di Bergamo, mura veneziane del Cinquecento, sono state riconosciute patrimonio dell'umanità. E anche il G7 mondiale per l'agricoltura, che si è tenuto nell'ottobre del 2017, si è tenuto a Bergamo e soprattutto si è tenuto ai margini della città, ridando alla marginalità una funzione centrale, centrale di scala mondiale. Bergamo è una città, come dicevo prima, intermedia a 50 km da Milano. Questo è il nord Italia, questa realtà estremamente complessa, dove vi è questo sistema urbano, policentrico e reticolare, che parte da Torino e arriva a Trieste, è lungo più di 600 km, 20 milioni di abitanti, che da alcuni autori, Gottham, Muscarat, Turri, viene letto con una chiave di megalopoli. E all'interno della megalopoli padana possiamo riconoscere quattro paesaggi principali. quelli bianchi, delle aree di massima naturalità, costituite dalle Alpi dell'Appennino, questa parte più grigia, le aree di massima densità dell'urbanizzato, lo sprolo urbano, un cuore verde dove il paesaggio agricolo ha ancora un peso, e poi la rete delle cento città fortemente interconnesse, che costituiscono questo sistema estremamente complesso. Ecco, questo è quello che io vedo dalla finestra del mio studio. Quando io mi affaccio al mio studio, da dove sono io, scusate, da dove sono io fino all'orizzonte, e qui ci sono 60 km, vedo questa città continua, questa città infinita. Naturalmente Bergamo ha una realtà molto piccola, 120.000 abitanti, 40 km quadrati rispetto a Vittoria che ne ha 277, una densità di 3.000 abitanti al chilometro quadrato. Una realtà molto complessa, anche perché la sua corona urbana arriva a 300.000 abitanti, mentre la provincia supera il milione. Però, vedete, 244 amministrazioni, una realtà complessa e fortemente frammentata. Il 75% della provincia di Bergamo è montano, però anche la montagna presenta una forte conurbazione. Questa è una delle nostre valli. La Val Seriana è praticamente una città continua, con 100.000 abitanti. In questo tratto ci sono dieci amministrazioni fortemente controposte, anche per motivi storici, culturali. Quindi al di qui del fiume c'è un'amministrazione, di qui un'altra, e così via. Fra l'altro, con questi problemi, da una parte, di forte pressione antropica sul fondo valle, quindi problemi ambientali, consumo di suolo, mentre sui versanti c'è l'abbandono. E quindi abbiamo perdita di biodiversità e di paesaggio perché i coltivi, l'agricoltura, le colline, le montagne, i boschi ricoprono tutto. Quindi una situazione molto complessa che è stata ulteriormente complessificata dalla presenza dell'aeroporto di Oriol Serio, che è la base principale della Ryanair in tutta l'Europa meridionale. Stiamo arrivando a 13 milioni di passeggeri. questo è quello che vedo dall'altra mia finestra. Da una parte, quello che ho visto prima, è questo. Bergamo è una città d'altura che, come dicevo prima, ha generato uno specifico sistema rurale che ci impone un minimo di lettura della storia della città per capire le sfide, i problemi e come sono stati affrontati. Bergamo è divisa in tre piani e in tre parti. Le tre parti sono il centro storico, i borghi e i corpi santi. I corpi santi sono quel suburbio che noi oggi chiamiamo periferia e che raramente viene letto nelle sue valenze paesistiche e storiche, ma che invece è sempre stato parte della città per la città con una cultura urbana, una cultura urbana nell'edificato, nelle coltivazioni, eccetera. Bergamo, tripartita, ha una pianta palmare, cioè fatta come una mano, e la parte centrale è città alta, le dita sono i borghi e, tra un dito e l'altro, queste conche rurali, non costruite, che si articolavano intorno a un monastero. Questo è il monastero di Astino negli anni 90, una di queste conche rurali, abbandonato, vedete anche i coltivi che non sono più coltivati, il bosco avanza o al massimo c'è un'agricoltura di tipo intensivo. Ma questo non duemila anni fa, negli anni 90, la situazione che avevamo. Queste conche, scusate, bevo un goccio d'acqua, queste conche erano storicamente finalizzate alla coltivazione dell'olivo e della vite. La piccola glaciazione del Settecento ha tolto la presenza, la crisi climatica della piccola glaciazione del Settecento ha tolto gli olivi, mentre i vigneti hanno una presenza plurimillenaria e la città generava questa concentrazione molto elevata di vigneti perché il vigneto aveva un grosso ritorno economico, aveva bisogno di grossi investimenti e, soprattutto, le acque in città non erano sicure. si prendeva il colere, il tifo, bere il vino, il vino era alimento, ma era bevanda anche per i benvini, non un vino forte come quello di oggi, con gradazioni minori, ma dava la sicurezza di non avere. La città, per produrre i vigneti, si è fortemente terrazzata, qui vediamo i terrazzamenti, e, soprattutto, per i vigneti aveva bisogno della paleria. Quindi le città generavano al loro interno dei boschi storici. I boschi storici erano poli funzionali, non davano solo il legname per sorreggere la vigna, ma erano anche fonte di legname da opera, aria di caccia. La città, in questi boschi, cavava le pietre per la propria costruzione e nel bosco si proteggevano le sorgenti che alimentavano la città. Nelle parti più vicine alla città, le coltivazioni orticole. Questo è il quadro della città di Bergamo nel Settecento, il polso, le dita e, all'interno, tutte queste conche rurali, dove non c'era certo bisogno né di infrastrutture ambientali né di anello verde, ma l'integrazione tra spazi aperti, costruito, fa verde, tra naturalità era pressoché completo. Bergamo ha avuto un grandissimo trauma urbano. Quando Bergamo passa sotto Venezia nel Quattrocento, Venezia, in accordo con la città di Bergamo, protegge la città e costruisce le mura quattrocentesche, quelle che vedete qui, intorno alla città. Ma il secolo successivo sono necessarie nuove cinte murarie per l'introduzione delle armi da fuoco. E questa volta Venezia si comporta in modo irrazionale. Invece di proteggere la mano, fa passare le mura sul corpo della città, cioè distrugge la città. Qui vedete in questo stampo la città sottostante e la cinta delle mura cinquecentesche. Il 10% degli abitanti hanno perso la casa. Sono state distrutte decine di conventi, chiese, anche la cattedrale dove aveva la cattedra del vescovo viene azzerata. Ogni chiesa è una scomunica, i progettisti accumulano decine di scomuniche, ma avanzano in questa distruzione della città. Qui vedete la città prima, qui la città dopo. Le relazioni con i borghi vengono lacerate e Bergamo diventa da città fortificata città fortezza. Una città che è cinta da una corona di verde, che è il verde della città perduta, della città non costruita, dove è vietato costruire e anche coltivare, perché ci deve essere il vuoto, in modo che il nemico si avvicini. La situazione cambia nel Settecento, quando viene meno la servitù militare, e col periodo napoleonico le mura vengono alberate e questa struttura, questa macchina di guerra, diventa spazio alberato di uso pubblico. E non solo si albera le mura, ma il vuoto urbano sottostante viene trasformato in giardini di Nordi. E quindi, là dove c'è la città, oggi c'è il verde, che di solito, invece, è l'opposto. E questo rafforzamento del verde, sia sulle mura che sotto le mura, crea un'icona che tutti i viaggiatori che vedono Bergamo dal Cinquecento in poi, riconoscono questa collana verde interna della città come uno degli elementi distintivi. C'è un momento, e qui inizia quello che porta agli esiti attuali. Negli anni Cinquanta, il secondo dopoguerra, l'Italia va incontro al boom economico, avviene quella che Turri ha definito la grande trasformazione, la perdita del paesaggio, dei valori ambientali, del bel paese italiano, e la città vuole costruire in quella corona verde che c'è fra le mura e la città contemporanea. Il sindaco di allora, con gli amministratori, invece, stabiliscono una regola, una norma del Cinquantesimo, che impedisce l'edificazione di questa corona interna alla città. Naturalmente non si può vietare di costruire, ma con questa norma del Cinquantesimo è una norma che dice puoi costruire se hai 50 volte di più la superficie che vuoi realizzare. Siccome pochissimi avevano queste quantità, si mantiene la collana verde. I bergamaschi saranno stati contenti. Abbiamo avuto per anni critiche al sindaco e a quei progettisti, a cui oggi invece è riconosciuto di aver fatto una delle operazioni più importanti della città. A volte la persona giusta, nel posto giusto, fa le vere rivoluzioni. Non bisogna mai essere il 51% d'accordo. Bisogna fare bene alle proprie azioni. E il sindaco, qualche anno dopo, scrive perché ha fatto questa scelta. E sembra che invece della città parli della propria fidanzata. Dice, noi eravamo custodi gelosi, dovevamo operare con garbo, per una realtà molto delicata. Questa scelta ha una seconda scelta di pianificazione molto importante nel 77, quando viene istituito il parco dei colli di Bergamo. Cioè, città alta, i suoi colli e dieci amministrazioni si mettono insieme e istituiscono un parco regionale. Un parco che dentro ha una città, una città dentro in un parco. E trovare una relazione fra la città e un parco regionale non è cosa facile. E il simbolo di questo riccio, che è la metafora dell'unione fra natura e cultura. Il riccio come il piccolo mammifero che si muove, e il riccio come la città chiusa a riccio, chiusa a riccio dalle mura cinquecentesche. Il parco attua, deve fare... Come si gestisce un parco con dentro una città? Allora vengono scelti tre grandi temi, la conservazione naturalistica, il puntare, perché una città è viva soprattutto sull'agricoltura e sulla fruizione. Da un punto di vista naturalistico, è un obiettivo che è stato, a salvaguardia della biodiversità, per certi aspetti raggiunto. Città come Milano, Pavia, rispetto alle flore dell'Ottocento, hanno perso l'80% delle specie che erano presenti in città. A Bergamo l'80% delle specie che erano registrate nell'Ottocento ci sono ancora oggi. Ma non solo, ci sono create anche situazioni particolari. Questo è l'Atlante degli anfibi d'Italia, tutta l'Italia è stata divisa in quadrati. Il quadrante che ha più specie, 11 specie, è il quadrante del Parco dei Colli della città di Bergamo. E anche questa piccola rana endemica della pianura padana, che vive nei boschi planiziali e non ce ne sono più, dalla campagna si è trasferita in città, è venuta a vivere in città. Ma il Parco ha anche difeso il consumo di suolo. Questa è l'area del Parco, queste macchie è la parte urbanizzata nel 54, queste sono parti del Parco che sono sotto il controllo dell'iniziativa comunale. ecco che da questa situazione siamo passati a questa, questo è l'urbanizzato. Però dentro il Parco buona parte del suolo non è stato edificato. Nel Parco è aumentato di 2 km quadrati il suolo urbanizzato, fuori dal Parco di 22, 10 volte di più. Ci sono alcuni paesi che hanno un tasso di consumo di suolo dell'80 al 90 per cento delle comunità. Dicevamo, un parco con dentro una città che riconosce il valore dei sistemi agricoli rurari specifici e urbani. E davanti a queste immagini dove tutti i terrazzamenti sono abbandonati, arrivano i grandi proprietari che ristrutturano la casa, ma allontanano gli orticoltori, i contadini e lasciano avanzare il bosco. Ecco che allora, da un punto di vista agricolo, vengono attuate una serie di scelte interessanti. Anzitutto si privilegiano le coltivazioni tradizionali. C'è l'esigenza di voler fare l'allevamento degli struzzi, degli animali a pelliccia e l'allevamento in tunnel. Tutto questo viene bloccato, si punta, si dà l'assistenza tecnica e si porta le aziende a un'attività multifunzionale, si sostengono economicamente, dando alle aziende delle commesse per la manutenzione del territorio, le si aiuta nella rete di vendita, le si porta verso una forte specializzazione che fa sì che oggi in città aumentano le aziende agricole. Le aziende agricole si chiudono in collina e montagna, si chiudono in pianura, aumentano. Questa ragazza e sua sorella, ad esempio, hanno attuato, è figlia di un idraulico, quindi non sono coltivatori che fanno i coltivatori, ma sono persone che abbracciano con esiti molto alti, soprattutto sono produzioni di nicchia specializzate, tradizionali, chilometro zero, quasi sempre biologiche, con anche rese economiche piuttosto rilevanti. Questo è il consorzio dei produttori di vino, il Val Calepio dei Colli di Bergamo, e hanno questo simbolo, il parco, il vino rosso e il profilo di città alta. Sono produzioni di alto valore economico e in questo comparto agricolo nasce anche un biodistretto dell'agricoltura sociale di Bergamo. È un biodistretto che non solo punta all'agricoltura biologica, ma soprattutto all'inclusione delle socio-lavorative delle persone svantaggiate, comparte gli sprechi alimentari e cerca di recuperare le aree incolte. Ci sono 40 aziende che partecipano a questo biodistretto di agricoltura sociale che è una specificità. Quindi il ritorno alle vendemmie, raccolte, ma poi Morris parlerà molto di questi aspetti, e poi l'implementazione, la costruzione di piste ciclabili che sabato e domenica sono le nuove piazze della città, e la fruizione di tutta una serie di sentieri dolci sui temi della biofilia, ma soprattutto la valorizzazione delle comunità locali, l'avvicinamento cittadini al sistema del verde, l'agricoltura, la servicoltura, l'ospitalità diffusa a basso impatto ambientale. Ora, potremmo essere già contenti, però qui c'è una forte altra novità. Se la parte urbana, nel parco dei colli, qui arriva, è salvaguardata, qui abbiamo appunto lo sprolo urbano, ci si accordi. Però, l'innovazione è stata, guardiamo il suburbio con occhi diversi. Le periferie vengono sempre viste come problema, e quindi, anche se siamo bravi, facciamo una bella periferia. Noi abbiamo cercato di leggere le periferie prima delle periferie, capire che cos'erano i suburbio. E leggendo la periferia prima delle periferie, ci siamo accorti che erano considerati i luoghi più belli della città. Il suburbio valeva come il centro. La proprietà fisica nel suburbio aveva valori spesso per l'orticoltura maggiori del centro. Nel suburbio c'erano le ville, c'erano i luoghi del lavoro, della sperimentazione. Ecco che siamo andati a cercare i segni di questo passaggio forte, no? Le ville, i castelli, eccetera. Mettendo in evidenza, in questi suburbio, quali sono gli elementi strutturanti, gli elementi forti. Un solo dato per capire che cosa voleva dire il suburbio. La settimana scorsa è stata trovata a Bergamo una tela del Mantegna. Sapete che il Mantegna è uno dei massimi pittori del Rinascimento, la Camera degli Sposi di Manto. Questo dipinto, che ha fatto scalpore, perché non si pensava che ci fosse ancora una sua tela, è stata trovata nell'Accademia Carrara di Bergamo. Ma era di proprietà di uno di questi proprietari del suburbio. Quindi nel suburbio si aveva il Mantegna, non il problema. Aveva una cultura urbana elevatissima, che spesso vedeva la struttura partire da una cascina, da una casa-torre che controllava l'accesso alla città. Con la stabilità veneziana alla casa-torre si affianca la grande struttura rurale, che poi, se la proprietà si mantiene, se i valori sono forti, nel 6-700 si costruisce la villa. C'è una stratificazione, una lettura. Perché non venivano lette? Perché l'Italia è piena di monumenti e questi qui del suburbio sono così isolati l'uno dall'altro che venivano visti come beni culturali sparsi. Invece, per le ville, per la sperimentazione, per altre cose, ci si accorti che queste strutture formano un sistema, un sistema di qualità che è dentro la città diffusa, e che il concetto di periferia come luogo brutto, problematico, nasce con le periferie vettoriane, che poi, e con il periodo industriale, 8-9 centesco, che danno questa idea della periferia come brutto. Ecco che noi, in questa lettura, a cosa abbiamo puntato? A questa nuova lettura autocentrata, non allo stereotipo della periferia, ma leggiamo le nostre periferie, leggiamo i loro contesti, e anche se ci sono fabbriche e problemi, mettiamo in evidenza i valori. E, in questo modo, creiamo una nuova immagine, che poi permette una rigenerazione non stereotipata, perché anche sulle infrastrutture verdi sono un po' uguali da tutte le parti, mentre non c'è mai un dialogo forte con la realtà. E ecco che uno di questi margini, la conca di Astino, quella che abbiamo visto all'inizio, è stata risignificata. non solo è stata risignificata, ma sono ritornate sia le culture che le culture. Il monastero, che era abbandonato, è diventato di nuovo un centro culturale, ci sarà anche una scuola di alta cucina, sono ritornate le culture orticole, fruttifiche, il vino biologico, e il bosco storico è diventato sito di interesse comunitario. E questo margine, dove nessuno andava, è diventata la sede del G7, che non è andato in Piazza Vecchia, è venuto in una periferia che ha trovato. In questa dimensione però ci ha spinto a ribaltare le cose, non solo attraverso la cultura dei luoghi, ricuperare naturalezza, ma attraverso la naturalezza ricuperare l'identità dei luoghi. E allora anche il percorso di lettura all'interno, ad esempio, il sostegno della candidatura a Bergamo, che è capofila di una proposta di riconoscimento UNESCO, che partiva da Bergamo e attraverso le città murate veneziane, nel 5-600 arriva fino al Montenegro, e quindi un sito transnazionale che mette insieme il Montenegro e la Croazia, che fino a ieri si sono guardati in Cagnesco. L'Italia, con Montenegro e con la Croazia, che nella seconda guerra mondiale erano nemici. Questo percorso però non è stato fatto come al solito, in modo molto museale, ma per farvi capire che la comunità sente e vede anche le mura come parte del proprio spazio sociale, è stata fatta questa provocazione. mille iniziative, ne faccio vedere solo una, questa, dire che la comunità si incontri, si riconosca sulle mura, si abbracci, e non si sapeva cosa sarebbe successo. Sono uscite più di 10-15 mila persone, neanche allo stadio. Io quando sono andato, tutti che si muovevano, scusate, si muovevano verso città alta, è stato stabilito questo record mondiale degli abbracci, dove la gente ha dovuto rimanere lì tutto il giorno al sole, ma quello che è interessante è che in Italia, poi lo sapete, oggi c'è una forte delegittimazione della politica. Invece vedere i sindaci che si abbracciano con i cittadini, c'è una forte contrapposizione fra i giovani, i vecchi, fra l'italiano e lo straniero. Tutto questo processo che è stato registrato ha fatto diventare le mura da frontiere di pieta, da contrapposizione, oggi il forestiero, il dentro, il fuori, l'italiano e lo straniero, ha un paesaggio vivo di pace, di inclusione sociale e soprattutto di naturalità. In questi nuovi sguardi si è guardato anche le mura come ecosistema, e le mura sono il più grande ecosistema della città. Sei chilometri, una falesia rocciosa costruita dalle pietre messa l'uomo, che ha una ricchezza floristica e faunistica enorme, ma che soprattutto è un sistema aperto, perché qui arrivano specie dalla montagna e a Bergo non ci sono le rupi, è l'artificialità che accoglie la naturalità. non è una zona mediterranea e questo ci ha spinto, purtroppo non abbiamo voluto, a fare una riflessione. Ma dove sta la naturalità nella città storica? La naturalità nella città storica spesso sta sugli elementi identitari. Moltissime specie di valore naturalistico stanno su questi muri, in questi prati adri, nei vigneti. Quindi questo ci ha portato a proporre un nuovo concetto, quello di paesaggio minimo. Cioè, più la città diventa complessa, più si urbanizza, più dobbiamo guardare il dettaglio per capire quali sono gli elementi strutturali. Allora, Gilles Clément ci dice dove avrà spazio la natura, nei luoghi di abbandono, generando quello che lui chiama il giardino planetario. Questa è un'area di smessa, la carota, questa bianca, è mediterranea, la conica canadensis, è americana, la buddleia davidi, è cinese, è asiatica, quindi l'Asia, l'Europa mediterranea e l'America, che insieme formano il giardino planetario. Noi invece diciamo che sono importanti questi spazi, ma nella città è importante anche salvaguardare l'identità, i valori naturalistici e le specificità. Anche le città sono sempre più omologate, c'è un'entropia nei loro aspetti. E ci siamo accorti che ci sono questi elementi, che noi chiamiamo paesaggi minimi, che ci raccontano dei materiali locali. Un muro nella pianura intermedia ha il sasso e il mattone. Se andiamo nell'altra pianura ha solo il sasso, se andiamo nella bassa ha solo il mattone. Allora c'è una serie di materiali, ma anche nei spazi aperti, adesso per motivi di spazio cerco di andare a chiudere. In questi paesaggi minimi, l'insegnamento, non è anche qui voler costruire quello che non si fa più, ma capire è una metafora, perché un paesaggio minimo è un paesaggio a compartecipazione uomo-natura. Cioè un paesaggio minimo nasce dal fondersi, dal confondersi, dalla razionalità progettuale umana con l'azione dell'uomo. Quindi la sfida è ritornare a fare paesaggi che possano tenere insieme la funzione dell'uomo e la natura, dimostrando che c'è una coevoluzione. Non dobbiamo continuare a guardare due cose separate, no? E i paesaggi minimi sono minimi, ma nel loro insieme creano il volto dei luoghi. A Bergamo non è stata edificata questa parte interna della città con tutti i suoi paesaggi minimi, però si è mantenuto lo spazio libero, ma non riconoscendo allora i paesaggi minimi dei terrazzamenti, delle siepi, eccetera, questa realtà è diventata così. Allora è la stessa, no? Ha perso la sua identità, è un paesaggio, un parco all'inglese che potrebbe essere dappertutto, eccetera. Se mi ha proprio un minuto. Ci sono tutta una serie di aspetti, ne leggo solo un paio, prima di andare all'ultima diapositiva. Che il terzo paesaggio ha vita breve, mentre il paesaggio minimo ha vita lunga. Il terzo paesaggio di Gilles Clément, che è importante, però è il luogo dove natura si contagia, si mescola, è il luogo dell'evoluzione, mentre i paesaggi minimi sono il territorio dell'eccellenza, della specificità culturale e naturale del luogo. E Gilles Clément ci dice che il terzo paesaggio, scusate, persegue l'invenzione. Invece il paesaggio minimo è animato dal principio di accumulazione, accumula i valori storico-paesistici, quelli identitari, quelli naturalistici. Sono importanti entrambi. Gilles Clément dice che il terzo paesaggio è la parte del nostro spazio di vita affidato all'inconscio. Abbiamo bisogno dell'inconscio, abbiamo bisogno che la natura possa, in modo autonomo, avvolvere. Il paesaggio minimo, invece, è la parte del nostro spazio in cui si è sedimentata la sapienza e la conoscenza locale, quella che si può chiamare razionalità territorializzante. Il terzo paesaggio persegue la creazione dove la natura evolve, crea, fa. Un paesaggio minimo, invece, persegue la comprensione, dove comprendere vuol dire mette insieme tante cose. Tutto questo, e questa è davvero la penultima, per dire che cosa? Che quando guardiamo naturalità-città, dobbiamo, soprattutto per le città europee o quelle italiane in particolare, capire che il processo è di coevoluzione, non c'è una contrapposizione. E questo grafico che fa vedere la diversità floristica, e quindi la biodiversità, nella realtà dell'Europa centrale, in funzione del tempo, si vede che, dal paleolitico al neolitico, la biodiversità, il paesaggio è aumentato. Poi successivamente arriviamo a questa soglia dove si cade. E noi siamo qui, stiamo perdendo, da una parte, come sul fondo valle, la biodiversità, il paesaggio, l'identità, per la potenza e la prepotenza dell'uomo. Dall'altra parte, sui versanti in collina, perdiamo la biodiversità, l'identità e il paesaggio perché viene meno l'azione dell'uomo. Quindi dobbiamo ritornare a costruire con questa grande capacità e far riemergere quello che Gambino diceva che nella rinaturalizzazione della città non è solo importante dare più verde, ma accettare la sfina di riportare la natura in città, ma restituendo la pienezza di quel significato ecologico, storico e culturale che traspare vivamente all'iconografia storica. Non è che dobbiamo fare la città storica, dobbiamo, a quella sfida, attualizzarla. Bergamo sta facendo questo. Se riuscirà, oltre il Parco dei Colli, Corpi Santi, la periferia, a chiudere il cerchio, allora questo anello verde di Bergamo farà sì che la città contemporanea si fonda con la città storica, generando una città verde, una città di paesaggio, dove sia facile radicarsi, vivere e anche produrre, perché la città è il luogo della crescita e dell'evoluzione della produzione. Grazie.